La Dispoli ospiterà l'Assovoce, il gruppo di volontari che da 30 anni operava a Cervetri, in seguito allo sfratto, si trasferirà nella città tirrenica. Il gruppo di soccorritori molto conosciuto nel territorio avrà dunque una casa, i programmi sono stati esposti nel corso di una conferenza stampa. Diciamo che qualche giorno fa abbiamo avuto un contatto con i responsabili dell'associazione, che purtroppo si è trovata da un momento all'altro senza una sede stabile, quindi essendo una realtà importantissima, con la quale già collaboriamo tra l'altro, perché da maggio sono presenti anche nel centro vaccinale con i loro volontari che ci danno una mano in questo importantissimo momento, abbiamo pensato di andare incontro a questa loro esigenza, quindi li ospiteremo nella sede della protezione civile comunale, finché non troveranno nel comune di Radispori una sede idonea dove stabilirsi. Noi stipuleremo con loro una convenzione a fronte della quale loro daranno alcuni servizi al comune, in cambio noi daremo loro un contributo economico che appunto li consentirà di avere una sede stabile. La sua voce quindi dal 22 luglio prossimo, giorno in cui avverrà lo sfratto, troverà un'altra collocazione e continuerà ad operare per il bene della collettività.